Insomma ragazzi, appena usciti abbiamo visto un film veramente figo, cioè veramente carino, siamo veramente rimasti proprio di come si intitola perché io, marito e moglie, con un singolare, Kasia Smutniak e Pierfrancesco Favino, molto invecchiato. Ah, il Favino, sì sì sì. Il Favino, purello, dai, il Favino. No regà, cioè questo film ve lo dovete vedere perché è veramente un taglio, cioè io stavo veramente inguaiato da ridere proprio col mal da panza, sì sì, veramente un taglio. Praticamente niente, vabbè lui che studia il medico, studia un macchinario per registrare i ricordi, poi per fare un esperimento si collega con la moglie e praticamente si scambiano le menti, per cui lei sta nel corpo di lui, lui sta nel corpo di lei, ma ragazzi, cioè è veramente un taglio, cioè non ci si crede neanche che sia un film italiano, guarda, di solito questi film così. Sì, che tu non è molto stupidissimo, perché alla fine tu che sei uomo, appunto, tu con la mente da uomo c'è la pioggia, mannaggia, tu non hai capito la metafora, perché sei maschio, voi maschi se le cose non ve li sbattono in testa, qual è la metafora? E che ne so, quando lui che si deve mettere l'assorbente, non sa come se mette, fa ridere, dai, cioè, e lei c'è, cazzo, gliel'hanno comprato un termo, almeno un termo, su, ma fa troppo ridere, comunque veramente è consigliatissimo questo marito e moglie col favino e quell'altra che c'ha il nome che deve comprare una vocale, è veramente, veramente carino, sì. e comunque adesso aspetta, vi facciamo anche vedere la locandina, poi andiamo dentro a mangiare la suscia, perché sta pure a piove, aspetta, la metafora che non ha capito, perché è uomo, appunto, fai vedere la locandina, perché, di qua, di qua, no, si vede qua, quando è che una coppia va in crisi, perché iniziamo fino a coppia in crisi, quando uno non vede più con la testa dell'altro, con gli occhi dell'altro, allora hanno scambiato le menti e la crisi non c'è più, vabbè, io comunque adesso con la bocca mia, con la bocca mia me mangio il sushi, ciao, arrivederci, ciao a tutti.